Sì, è una giornata importante, abbiamo ricevuto la visita gradittissima del presidente professor del Conte qua a Genova e a Imperia, insomma un po' per le varie anime della Liguria, le varie organizzazioni dei centri per l'impiego quindi è una giornata molto molto importante anche per ribadire la nostra stretta collaborazione con l'agenzia per quelle pur nel rispetto delle materie che sono di competenza dello Stato e di competenza delle regioni ma penso che la collaborazione sia nell'interesse di tutti, ci sono percorsi che si possono intraprendere assieme che non possono che portare benefici e interessi attorno ai centri per l'impiego, alle politiche attive del lavoro quindi nell'interesse dei nostri concittadini che sfortunatamente si trovano o da molto tempo o anche da pochissimo tempo in condizioni di disoccupazione. Sono partito da Imperia e adesso sono qui a Genova, due realtà nella stessa regione diverse, Imperia più una realtà di frontiera complessa ma con dei servizi del centro per l'impiego che già guardano il futuro attraverso l'utilizzo di social media attraverso l'utilizzo comunque di tecnologie e di accompagnamento personalizzato del disoccupato il senso della mia presenza qui è ci siamo, mettiamoci a fattore comune, facciamo sistema perché ogni singola esperienza non resti un caso isolato ormai non ha senso lavorare esclusivamente su un piccolo territorio bisogna affrontare le crisi in una dimensione almeno nazionale possibilmente anche guardando al di fuori dei propri confini nazionali e bisogna mettere a fattore comune tutte le banche dati e quindi le informazioni del mercato soprattutto capendo quale può essere la domanda di lavoro cioè le imprese di che cosa hanno bisogno completare i percorsi di qualificazione professionale perché siano coerenti con questa domanda e quindi aiutare il vero e proprio processo di trasformazione, riconversione soprattutto laddove le aree di crisi hanno dimostrato che certi business non hanno più futuro Credo che a partire dalle specifiche caratteristiche del territorio si possano fare progetti concreti un'area di crisi complessa come quella del Savonese di Vado è l'occasione per mettere insieme attrattività degli investimenti anche attraverso bonus per chi assume in quella zona ma soprattutto fornire di lavoro le imprese che iniziano una nuova attività lavoro che deve essere qualificato quindi deve essere riportato alle competenze necessarie e in modo da poter assorbire quello shock occupazionale che è derivato evidentemente dalla fine di un certo modo di produrre alcune attività alla riconversione